Risolto in poche ore grazie alla giusta pista individuata a caldo, anzi a caldissimo, dagli investigatori della questura. Una rapina con accoltellamento, quella di ieri sera a Pescara in piazza Sacro Cuore, che però potrebbe nascondere molto altro e molto di più. È lo stesso questore Liguori a dire in conferenza stampa che il movente della rapina non è affatto scontato, viste le ferite inferte alla vittima a modi sfregio. L'agguato, due uomini si infilano nel portone approfittando di qualcuno che entra e si appostano sul pianerottolo in attesa di quello che poi sarà il ferito, un imprenditore di 57 anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e che sta scontando la pena a Pescara. Tra i tre nasce un alterco, forse una colluttazione, in cui l'orologio diventa solo un dettaglio minimale, anche se confermato dalla stessa vittima. In strada intanto ci sarebbe la donna, probabile palo, e compagna di uno dei due, MG, pregiudicato per omicidio. Il ferito fugge in strada, i tre si allontanano, ma vengono individuati grazie alle descrizioni dei passanti e addirittura preceduti nell'abitazione della coppia dalla polizia. Lui aveva ancora ai piedi le scarpe sporche di sangue. Si è arrivati immediatamente a una coppia di sospettati, raggiunta praticamente sotto la loro abitazione, quando non erano ancora tornati dalla rapina o giù di lì. Una notte di lavoro impegnativa che ha portato poi anche all'identificazione e alla denuncia del terzo concorrente. Un dato che ci viene comunque dalla vittima è quella dell'aggressione a scopo di rapina, però dato il vissuto dei protagonisti di questa vicenda tutti gli scenari sono aperti. Come siete arrivati alla coppia prima ancora che la coppia arrivasse a casa? Perché siamo stati veloci e anche un pochino bravi. Grazie alla conoscenza del territorio e di chi lo popola, come dicevo prima, dalle descrizioni, da alcuni particolari che sono nersi immediatamente sulla scena del crimine e diramate alle pattuglie in giro, la squadra mobile ha raggiunto quello che sapeva essere il domicilio della coppia incontrando la donna sotto casa, non era ancora salita nell'abitazione e pochi minuti dopo è stata raggiunta. Quindi prima ancora delle immagini di videosorveglianza? Le immagini di videosorveglianza sono state poi ovviamente visionate e ci hanno dato conferma che la pista era giusta. Diceva in conferenza stampa che è stata anche importante la collaborazione dei cittadini, dei residenti della zona? Assolutamente, ancora una volta Pescara non è omertosa, abbiamo raccolto delle dichiarazioni importanti, dei riconoscimenti importanti dai residenti che hanno contribuito a cementare un castello accusatorio già solido. Grazie. 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 Grazie.